un pezzo di nocciolo vai vai seguici lui non andare ma va è solo il pezzettino là del cuoco anche il marco ha imparato a guidare altro che parte l'unico il dito che ciuloni che sono veramente questo è dalla fonda l'unico è sempre più spina brutta 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 eccolo qua eccolo qua mizzica nel buco più profondo ai 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 di brutta posizione questo è il buco del presidente ma del prespero nuovo e dove è già caduto anche lui ai 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 se è viscido metti sui piedi e lascialo andare scappa 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 mizzica se è vicido via un cazzo mizzica sono già stanco no dai è pericoloso da martì eh grazie a tutti